Bella ragazzi e benvenuti in questa recensione a caldo dell'episodio 56 di Boruto titolo dell'episodio I rivali tutti riuniti prima di iniziare la puntata ragazzi voglio dirvi due cose la prima è che voi sapete che io di solito Boruto lo carico il mercoledì però da adesso in poi o almeno non so fin quanto durerà il video di Boruto uscirà giovedì perché? perché in Giappone hanno cambiato la programmazione di Boruto e quindi anche in Italia chiaramente è cambiata non uscirà più il mercoledì ma bensì il giovedì quindi io ve lo porterò quando uscirà per chi mi segue su Instagram ragazzi lo sapeva perché avevo fatto una stories e vi lascio il link qua sotto di Instagram se volete seguitemi e la seconda cosa ragazzi è che domani venerdì uscirà un video ancora devo registrarlo però uscirà un video non vi posso dire niente però è facile da capire cosa può uscire domani e provate qua sotto a vedere se ci azzeccate e non potrò dirvi se è vero o falso però non è difficile inizia subito la puntata ragazzi e inizia con Imeuari che parla col fratello che sta per andare a fare l'esame e gli dice gamba tenè onicia cioè gli dice dacci dentro buona fortuna fratello però l'hanno tradotto dacci dentro Boruto non dice Boruto dice fratello e doveva intradurlo fratello era più bello poi Imeuari io l'amo ragazzi mi piace tantissimo come voce cioè io mi vorrei sposare chi doppia Imeuari oppure mi sposa solo la voce vabbè ma comunque tutte le voci giapponesi di bambine sono tutte belle non so il perché Boruto si unisce alla sua squadra e va all'incontro con tutte le altre squadre chiaramente ci sono Boruto la sua squadra Iwabe la sua squadra e così via quelli della foglia e anche altre squadre chiaramente degli altri villaggi chi c'è? Shinky chiaramente che in questa puntata ha fatto qualcosina nel senso non è che abbia usato i suoi poteri però mi ispira tantissimo tantissimo veramente poi c'è quello che fa le bolle dalla bocca che non mi ricordo il nome ma sinceramente manco me ne frega perché mi sta antipatico poi ci sono tre fratelli dell'isola dell'acqua, della nebbia non mi ricordo sono tre fratelli gemelli che sono in squadra insieme e diciamo che sembrano abbastanza forti comunque giocano molto di squadra essendo anche fratelli si trovano molto meglio in questo raduno ragazzi c'è Shikadai che parla a tutti i ragazzi dice guardate qui ci sarà la prima prova di qua e di là però inizierà a una determinata ora quindi hanno un po' di tempo libro o per affinare le tecniche o per riposarsi per fare qualsiasi cosa e quindi Boruto e la sua squadra decide di andare a mangiare al solito posto sono lì che mangiano Sarada e Boruto Mitsuki non c'è prima c'era poi è sparito va bene quindi sono lì che mangiano tre fratelli e si fanno i fatti loro e chi arriva? arriva la squadra di quello lì che fa le bolle quello del villaggio della nuvola e comincia a rompere le balle cosa gli dice? ah noi siamo in tre voi siete in due noi possiamo prendere il tavolo cioè probabilmente vuole sfrattare Boruto e Sarada dal loro tavolo per sedersi lui e la sua squadra potevi dire tranquillamente guarda io sono venuto qui solamente per rompere le balle potevi dirlo tranquillamente e facevi una più bella figura di quella che hai fatto così sono lì che si guardano male faccia a faccia ma succede qualcosa che vengono stritolati da qualcosa tutti e due da chi? da Shinki dice basta così proprio basta così e da lì ragazzi io ho capito che sembra da quello che uno vede magari dice no non è vero però da quello che ha fatto qui sembra veramente molto più buono di gara cioè sembra veramente una persona che vuole le cose giuste lo so sembra una cazzata perché ha fatto solamente quella cosa lì però non aveva altro motivo cioè lui non c'entrava niente è arrivato lì per bloccare diciamo questa lite che stava iniziando tra Boruto e questo quest'altro ragazzo comunque ragazzi vi ringrazio perché mi ero veramente dimenticato che Shinki usava la sabbia io vi ho detto che aveva una sorta che sembrava che avesse degli insetti sapevo che non erano insetti però non stavo pensando alla sabbia in quel momento lì quindi me l'avete scritto nei commenti del video scorso vi ringrazio perché veramente non mi ricordavo arriva anche Mitsuki ragazzi e chiaramente le cose si sistemano il gruppo del villaggio della nuvola se ne va va a mangiare un altro tavolo e le cose finiscono lì inizia a parlare Sai e inizia a dire che la prima prova sarà un quiz però chiaramente dice sì la prima prova sarà un quiz ma bisogna arrivare nel luogo dove si farà la domanda e dice che hanno un'ora di tempo per arrivarci e nel tragitto chiaramente ci saranno anche delle trappole mentre parla Sai ha un cronometro in mano chiaramente per vedere un'ora e continua continua a parlare però a un certo punto si vede che delle persone prendono e se ne vanno dei ragazzi prendono e se ne vanno ma cosa succede? Sarada che ci vede bene ha visto che Sai mentre continuava a parlare aveva già attaccato il cronometro quindi il tempo già stava scorrendo e chiaramente anche loro prendono e vanno verso il posto della prova comunque della domanda si vedono dei ninja che cadono nelle trappole come degli idioti altri che riescono a evitarle Boruto Sarada e Mitsuki senza problemi vanno avanti anche chiaramente Shinki anche quello che c'ha là che fa le bolle che manco mi ricordo il nome raga non mi ricorderò mai il nome di quello lì se non lo diranno io non saprò più come si chiama sinceramente non me ne frega neanche niente però andiamo avanti chi è che piazza tutte queste trappole ve lo devo anche dire Tenten che non si vedeva insomma non si è mai vista penso in Boruto Tenten Tenten arriva non si vede che piazza le trappole le ha già piazzate Tenten tranquillamente dice oh Boruto è bravo vediamo se riuscirà con questa vabbè arrivano al luogo della domanda gli viene posta la domanda e loro devono scegliere se è vera o falsa se si devono mettere su due piattaforme chi sceglie che è vera va da una parte e chi è falsa dall'altra chiaramente si dividono cioè no le squadre devono essere tutte e tre le persone insieme però tante squadre si dividono qualcuno va da una parte qualcuno dall'altra Shinki va da una parte Boruto va dall'altra si dividono e la risposta è non c'è sono tutte e due sbagliate le risposte quindi tutti e due cadono queste piattaforme si rompono cadono e in fondo a queste piattaforme c'è un treno che passa e magari investe qualcuno e ha già finito a fondo a queste piattaforme c'è tipo della melma della roba nera infatti sai l'aveva detto chi verrà comunque sporcato di nero sarà bocciato quindi non è detto che tu non puoi cadere tu puoi cadere però non ti devi sporcare di nero chiaramente Boruto mentre sta cadendo si vede che si è già rassegnato infatti è una cosa strana sinceramente è una cosa molto strana noi lo sapevamo già però è una cosa strana cioè Boruto per come lo conosciamo noi non si rassegna soprattutto per queste cose comunque vabbè Boruto grazie a Sarada e Mitsuki si salva Shikadai pure i wabesi pure Shinki vabbè chiaramente i migliori si salvano senza tanti problemi finisce la giornata quelli che non si sono sporcati hanno superato la prima prova Boruto va a casa e l'ha steso nel letto che pensa a un po' di cose e a un certo punto gli arriva un'email di chi? di suo padre ma chi è che ha consigliato suo padre di mandargli un'email? è stato Shikamaru e nell'email c'è scritto complimenti per aver superato la prima parte spero cioè credo che riuscirai anche nella seconda papà Boruto lì così non manda neanche un clone ma guarda che padre però l'email era lì che stava per cancellarla invece no l'ha salvata questo è un piccolo gesto chiaramente che ha fatto Boruto che ha fatto Naruto scusate che Boruto chiaramente ha apprezzato anche se non l'ha fatto vedere così e qui vi fa capire che un pochino di riavvicinamento piano piano c'è poi vabbè noi sappiamo come è andata la storia va bene e niente ragazzi il video ve lo voglio concludere qui se vi è piaciuto lo sapete un bel pollicione in su se vi è piaciuto chiaramente pollicione in giù e bella grazie a tutti